Bisogna ripartire dalla reazione di Cosenza, è obbligatorio? Sì, sì, sicuramente, dovremmo ripartire dalla reazione di Cosenza per portare i punti domenica contro la Paganese. Contro i Campani è fondamentale vincere perché questi tre punti sarebbero veramente fondamentali per la salvezza? Sì, sì, è fondamentale vincere perché se vinciamo siamo un passo dalla salvezza, quindi per noi è come una finale, dovremmo lottare su ogni pallone come abbiamo sempre fatto e portare a casa i punti. Hai messo pure dentro un bel assist per Lorenzo, ti ringrazio dal Mersi. Sì, sì, sicuramente, però dispiace magari aver perso, siamo molto dispiaciuti e siamo più carichi che mai per vincere domenica contro la Paganese. Con l'arrivo di Russo è aumentata la concorrenza in mezzo al campo, è uno stimolo, un pericolo cosa? No, no, sicuramente è uno stimolo in più, però è un giocatore che porta esperienza e siamo molto contenti di averlo qui con noi. Grazie. 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 Grazie.